buongiorno ragazzi siamo in Viale che dorme a Monselice sono circa le 1.40 il 25 febbraio e qui è tutto normale sono stato a mangiare in questo ristorante cinese che fa che fa il menu fisso al You Can Heat poi è il compleanno perciò 9,90 al Chana Town Viale Cadorna 24 bene andiamo a vedere un po in giro come la situazione mi sembra tutto normale qua qui siamo a 10 chilometri da Vaux e poi c'è la quarantena questa è pizzeria lustica ve la consiglio ottima pizza vediamo un po c'è poca gente passiamo anche una zona vicino al centro ma una zona di passaggio di macchina ora avviamoci verso il centro e vediamo com'è la situazione qui siamo davanti alla chiesa che è aperta c'è un sacco di movimento non vedo nessuno con le mascherine perciò tutti sono tranquilli non vedo nessuno con le mascherine perciò barra aperti e considera che siamo nei due pomeriggio normalmente questi luoghi sono pieni di salva la domenica e il passeggio è il corso non vedo nessuno non vedo nessuno con le mascherine perciò ma eccoci in piazza di 1 16 certo non c'è molta gente ma so anche due pomeriggio lassù c'è il castello di manselice bello da visitare e niente qui tutto normale nessuna mascherina nessuna niente perciò sicuramente voi direte ma non è che c'è molto movimento ma sono anche due pomeriggio la gente va a mangiare o a lavorare la manselice è tutto ciao ciao